ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale nel video di oggi voglio trattare un argomento molto utile molto di moda in questo periodo che permette di avere dei ritorni tramite lo staking e la defy veramente notevoli appunto sto parlando dello staking molte volte sento la domanda dove devo mettere in staking come devo far mettere in staking e ci vogliono diversi portafogli diverse bloccine per poter supportare gli staking di diverse criptovalute quest'oggi voglio parlare di una piattaforma che è diventata famosissima in asia per lo staking è una delle più sviluppate vi sto parlando di un mistake che andiamo a vedere nel dettaglio dopo la sigla eccoci sul sito ufficiale monstake.io due notizie di monstake prima di andare a vedere come funziona allora monstake è attualmente il sedicesimo asset di staking più grande al mondo è annunciato il 21 gennaio 2021 quindi molto recentemente di entrare ufficialmente nel settore della defy nella finanza decentralizzata monstake ha raggiunto oltre 16 milioni di dollari di attività di staking totale e ha raggiunto una rapida crescita sia nello sviluppo di un prodotto che nel marketing nel breve periodo e in pochissimo tempo in circa due anni i principali pool di stake e anche di partnership con più di 200 blocci pubblicate e con nominati progetti sulla defy come potrebbe essere ad esempio polkadot e cardani monstake come ho detto ha debuttato sul mercato circa due anni fa con l'obiettivo di creare una delle più grandi reti di staking nell'asia da quando è uscito sul mercato ha sviluppato diversi portafogli di staking i più user fletti che si possono trovare nel web ha creato questi portafogli sia per web wallet che per mobile wallet ios ios scusate e android compatibile con oltre 2.000 criptovalute durante questo periodo ha anche collaborato con le block chain pubblicative nel modo della defy come enburgo e quindi cardano neo ontologi e one time la defy come dico sempre è una finanza decentralizzata che cavalca il periodo della criptografia bisogna cavalcare secondo me quest'onda chiamiamola bolla chiamiamola moda ma è presente è iniziata nel 2017 con il primo approccio e si sta sviluppando a vista d'occhio soprattutto quest'anno e i progetti sulla defy superano i 25 miliardi di dollari con una crescita del 290 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso gli sviluppatori di monstake stanno attualmente realizzando un light paper sui prodotti defy sui modelli di business innovativi verrà rilasciato entro il primo trimestre 2021 e oltre a creare i propri prodotti la piattaforma accetterà ampiamente le applicazioni dei prodotti defy che considerano che desiderano connettersi alla piattaforma monstake la piattaforma gestisce ad oggi un totale di 200 milioni di dollari proveniente da utenti in tutto il mondo quindi è veramente un panorama in grande espansione e monstake rientra in questo ecosistema al cento per cento e direi anche che è entrata a gamba tesa su diversi servizi di stegni e al momento posso dirlo con certezza alla meglio perché racchiude in un wallet semplicissimo le funzionalità di staking exchange staking su defy sicurezza e soprattutto l'implementazione di aziende fintech diamo un rapido sguardo all'home page come si presenta la home di monstake come abbiamo detto è compatibile per apple ios con android su google play store è un portafoglio via web questi sono attualmente alcuni token e alcune criptovalute supportate abbiamo cardani abbiamo polkadot tesor e abbiamo tutte le criptovalute più promettenti e i token più promettenti nel settore bloccini del settore defy qua mi dice un po la storia della della dell'azienda come sono nati i prodotti come abbiamo visto mobile e web wallet il team esecutivo i consulenti e soprattutto le collaborazioni più importanti e burgo e murgo scusate e che si riferisce a dada cardano polkadot mio ontologi tutto un pundi one chain centrali praticamente ha dei partner veramente enormi e parte negli staking e parte nessuna defy abbiamo per il momento 1 2 3 4 partner che andranno ad aggiungersi alla coda di partner che parlano chiamavolo così listati nel corso del 2021 andiamo a vedere come si presenta il wallet per accedere al wallet dovete creare un account l'account da creare semplicissimo basta inserire una volta un email e una password vi porterà la schermata di registrazione a dove andrà andrete ad abilitare ve lo consiglio l'autenticazione a due fattori io adesso lo salto perché solo un account di prova e questo è come si presenta il wallet semplicissimo qua in alto avete il vostro saldo la possibilità di fare il backup con le solite frasi si vanno da 12 a 24 sind valuta supportata nella dashboard usd ma si possono anche acquistare cripto valute in euro allora una volta che vi siete registrati dovete andare sul vuole per fare crea wallet qua avete tutte le cripto valute supportate cardano cosmo e tirio iris ontologi i token che andiamo su tether ma la cosa bella è che voi potete aggiungere qualsiasi altro token inerente anche alla defy per metterlo in staking quindi da un wallet solo avete tutte o comunque la maggior parte delle cripto valute più importanti per lo staking quindi con un'unica sola applicazione vi eviterete di registrarvi in tantissimi wallet e tantissimi index oppure decentralizzate per metterli stick e le vostre cripto valute vedete ce n'è veramente tantissima atom dash fill harmony e così via per raggiungere basta andare su ad e lo troverete nella vostra con pace qua su staking info avete gli api e quindi gli interessi annuali cardano lui si collega in automaticamente automaticamente a shelly e mi dà il 5 per cento anno il minimo di staking e 5 ada poi vediamo un po di polka dot 13,61 per cento all'anno log in questi polka dot vengono bloccati almeno per 28 giorni quindi per 28 giorni una volta che staking non potete prelevarli dopodiché potete decidere di svincolare il minimo è un dot per fare il client del vostro reward basta andare a fianco e cliccare su claim reward se andate sul dettaglio invece vi spiega un pochino che cos'è lo staking ad esempio di polka dot avete all'interno l'exchange dove possiamo scegliere quale cripto valuta andare a scambiare supponiamo di voler scambiare un e tiro per cardano vedete quali i relativi importi e network si potete anche acquistare le cripto valute per acquistarle con dollaro o euro facciamo una prova ammettiamo di voler cambiare 50 euro e li cambiamo in usdt veniamo portati alla pagina successiva e vediamo che andremo a pagare come tasti qualcosa più importante di un totale di 9,77 euro per un totale di 63,87 usdt supponiamo di voler provare a fare un deposito scegliamo una cripto valuta caso proviamo cardano si clicca su cardano vediamo il grafico l'andamento dei prezzi la posizione sul market cap alcune indicazioni più il sito ufficiale dello sviluppatore per ricevere facilissimo basta che andiamo su ricevi ci viene generato il qr e il wallet al quale mandare i nostri cardano qua abbiamo la storia del nostro wallet su cardano le informazioni sulle sullo staking le reward e eventualmente possiamo anche inviare cardano più il nostro i nostri premi per lo staking a qualsiasi wallet esterno un'altra cosa importante è l'amministrazione del proprio wallet dove possiamo cambiare il nome ma soprattutto andare a vedere le password quindi le i seed che mi raccomando copiateveli come sempre in diversi punti perché vi serviranno nel caso il computer non funzioni per viate al cellulare vi serve per ripristinare il vostro accanto su un altro dispositivo siamo arrivati alla fine di questo tutorial come avete visto è molto semplice e intuitivo sia il web wallet sia il wallet per smartphone vi permette di avere lo stake di diverse criptovalute con exchange integrato a portata di mano una sola registrazione senza documenti vi permette di mettere in staking tutte le vostre criptovalute ormai sono circa 2000 criptovalute quindi ce n'è veramente veramente tante inerenti anche alla defa e cosa importante e ne aggiungeranno sempre delle altre in più implementeranno come avete visto dei servizi aggiuntivi ragazzi vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale e di unirvi alla mia community telegram dove avete l'assistenza 24 su 24 7 giorni su 7 e che dirvi grazie per l'attenzione come sempre per ogni volta che state insieme a noi io vi ringrazierò e vi ringrazio davvero con tutto il cuore ci vediamo presto alla prossima video